Ciao, in questo video vi farò vedere una build di Vex con i suoi oggetti, le sue rune, i suoi incantesimi e un bel tutorial non editato ma in questo caso analizzato. Ah giusto, nel frattempo, ecco, qua c'è il buon Rick che ci si mostra come sempre, intanto mi accompagnerà nella build. Dunque, con i primi oggetti possiamo vedere il Ludenseco perché ho provato il Ludenseco e mi piace di più della Road of Aegis, ma in questi giorni la proverò molto di più e poi arriverà il video, quello fatto al, diciamo, dopo aver studiato tutte le build. Come secondo oggetto, Rabadon, senza problemi proprio per cercare subito quel danno massivo e si vede quel danno massivo. Terzo oggetto, sono un po' indeciso. Allora, in genere vado a preferire la Sfera dell'Infinito perché i nemici non hanno Magic Resist tanta, cioè così tanta Magic Resist da dire, ah faccio subito il bastone del vuoto. Però, ho visto qualche Vex buildare il bastone del vuoto, quindi devo confermare al 100% questa cosa, lo farò nel video successivo, però nel frattempo, secondo me, è sempre meglio fare una Sfera dell'Infinito che vi fa crittare, appunto, con i danni magici e poi fare il bastone del vuoto come quarto item. Ah giusto, una cosa importante che non ho menzionato, le scarpe vado a fare gli stivali della Cume di Ionia nella maggior parte delle partite, se è un game invece proprio rischi, 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 faccio i calzari di Mercurio, ma di solito faccio quelle, appunto, della CD e ci vado a mettere la Zonia perché è super utile, visto che vi buttate in mezzo ai fight e vi serve veramente tanto. Forse in qualche game potrete rischiarvela con la fascetta d'argento per evitare il CC nel momento esatto in cui state entrando, così nessuno vi può fermare, fate la vostra combo, però la Zonia la maggior parte delle volte è molto meglio. Qui vedete invece uno Spirito Cosmic, un Cosmic Drive, però la maggior parte dei game mi è capitato nel 90% dei casi di fare il Morello, perché alla fine c'è sempre qualcuno che si cura, i top meta champion e la maggior parte si curano e quindi avere il Morello la maggior parte delle volte è molto meglio che avere altri oggetti. Poi chiaramente come oggetti situazionali abbiamo appunto il Cosmic Drive, Banshee Veil e il Riflettore Cristallino. Ecco, il Riflettore Cristallino non è per niente male su Vex perché comunque bene o male vi buttate in mezzo al fight, siete, sto continuando a guardare il buon Rick qui che ci sta accompagnando nella build, cioè comunque state sempre in mezzo ai fight e quindi questa difesa in più e anche danno riflesso contro i campioni non è per niente male. Quindi andiamo avanti, andiamo a vedere le rune e ovviamente abbiamo l'Eletroshock, perché? Perché fate le combo, vi buttate in mezzo e fate un sacco di danno tutto insieme e ci sta benissimo. Io sto giocando con Trionfo, poi sicuramente vi confermerò questa cosa poi nel video, quello successivo, e devo dire che mi trovo bene. Potete provare anche con Bruciare se volete fare un po' più di poco in una line difficile, ma non mi fa impazzire. Abbiamo Debolezza se utilizzate il Fear correttamente per fare una combo che fa leggermente più danno, ma considerando che Trionfo insieme all'oggetto appunto alla Sfera dell'Infinito secondo me funziona molto bene. Poi ho Sfera dell'Annullamento perché mi aiuta in corsia, nei fight un po' più difficili, questo scudino quando mi butto in mezzo non è per niente male. E poi vedete la Fascia del Flusso. Allora, qui ho fatto quasi tutti i game con Cacciatore Genio, ma mi trovavo ad avere un po' di problemi di mana, io non sono proprio bravissimo nella gestione del mana, e quindi sono passato alla Fascia del Flusso con la quale mi sono trovato meglio. Secondo me questa è una cosa che dovete provare dopo qualche game e dire ok, mi trovo meglio con Fascia del Flusso, mi trovo meglio con Cacciatore Genio per la velocità di abilità. Come ultima cosa ovviamente abbiamo gli incantesimi, come sempre, che vedono l'Ustione e il Flash, perché dovete fare kill, siete dei maghi anti-assassin volanti e bla bla bla, l'Ustione vi aiuta a fare le prime kill, a prendere i gold, a fidarvi e quindi poi a carriere la partita. E quindi detto questo, stiamo andando al gameplay e vi saluta anche il buon Rick che oggi era super sveglio. Eccoci qui, sono contro Ari, ero in BlueSide, ero sul mio main account a Master, per fortuna me l'hanno lasciata open perché ho fatto anche qualche PvP come al solito per provare un po', ma erano sempre contro altre Vex, giustamente, altre persone che volevano provarla e con Ione si poteva andare uno top, uno mid e così via, invece con Vex erano ovviamente tutte mid, quindi ho voluto fare anche una ranked sul main per provare a prenderla. Per fortuna ci sono riuscito e Ari ha provato a, diciamo, a prendere Ari contro di me, ma non è propriamente un buonissimo pick perché è un campione che ha un sacco di dash e il che per la passiva di Vex è molto comodo. Stessa cosa vale per Kha'Zix, che anche lui salta, dash, insomma, fa roba. E ad ogni modo quindi, cioè, insomma, il game per me è un po' in vantaggio in questo caso. Allo stesso tempo bisogna sempre stare attenti perché sì, i dash ti aiutano con la passiva e tutto, ma non è che sei immortale o non ti possono prendere, figuriamoci, sei comunque un mage. Qui intanto sto cercando di pocarla, vedete, con lo scudo vado a fare il trade perché mi riesco quindi a tankare un po' del suo danno, le applico l'ignite, vado a fare la prima abilità, per sfortuna lei flascia e non riesco a tirarle l'ultimo attacco base dopo aver utilizzato la terza abilità. Tanto che Kha'Zix è qui, è importante perché sto rischiando praticamente di essere gancato, sono molto basso. Ecco, qui io sarei dovuto andare a prendere queste cure e poi tornare a farmare. Non lo faccio, Kha'Zix flascia, non ho il fear pronto, vedete la barretta sotto di me. Ricordate di stare attenti anche alla barra sotto la vita di Vex, quella lì è la barra della passiva, quindi quando ha il fear pronto, sia se siete voi, sia che la Vex è nemica. Quindi mi uccide, ovviamente hanno utilizzato entrambi il flash, sia Kha'Zix che Ari, e il che comunque può tornare utile più tardi. Andiamo avanti, e niente, ho dovuto fare un piccolo taglio perché i vicini sbattevano il cancello. Dunque, andiamo avanti, qui ho comprato appunto il capitolo perduto per il potere magico e il mana massimo, perché il primo oggetto sto andando a fare il Ludenseco. Qui sto cercando di rallentare leggermente il mio farm, aspettando Ari per non pushare troppo la corsia, perché vedete, lei è a livello 5, sono ancora a livello 4. Stavo aspettando di prendere il livello 5. Poi il suo è con i 3 dash, il mio invece è quella ulti che, se non sapete cosa fa Vex, c'è il video introduttivo dove spiego le abilità proprio, tutte quante, con le combo, con la priorità, eccetera, eccetera. Qui cerco di farle del poke mentre farm, cosa importante, ricordatevi che la prima abilità attraversa i minion, quindi potete fare sia farm che poke contemporaneamente. Il Fiar e la passiva lo potete triggerare anche sui minion, ma vi ridarà meno parte della passiva. Ecco la barra che vi dicevo prima, guardate sotto di lei. Vedete che è gialla e sta per diventare rossa a breve e piena. Qui Ari decide di andare a romare, quindi io la voglio seguire, perché comunque la situazione per me è propizia. Volevo castare la Suprema, la manco di pochissimo su di lei, però vado qui e la lascio a Catelyn perché tanto avevo usato la Suprema. Cioè, l'avrei rubata volentieri, però non avevo neanche preso la mia Suprema, purtroppo. Quindi qui mi prendo qualche minion per il disturbo di essere andato in bot e mi rimuovo verso la mid. Qui levo una ward, semplicemente perché ci passo sopra e finalmente mi rendo conto che c'era una ward qui. Una pinca nel cespuglietto, torno in mid, vado a pulire la corsia e intanto riesco a fare un po' di poke suari. Vedete che adesso vado a tirare l'attacco base proprio per triggerare quella roba della passiva. Lo scudo l'ho usato perché così se lei mi faceva danno potevo sopravvivere più facilmente. Adesso lo scudo mi avrebbe fatto comodo contro Kha'Zix, però qui riusciamo a baitarlo. Rimane molto avanti, Ari prova il charm e purtroppo non riesce ad ucciderlo. Qui rimanga uno di vita, Ari prova il flash, mi scudo, flash anch'io, quindi sopravvivo, Ari baitata. E Rengar riesce a prendere l'uccisione. Andiamo avanti perché devo recallare ovviamente. E vado a prendere finalmente il Ludenseco con le scarpe. Vediamo qui. Dovrebbe vedersi, ecco qui Ludenseco con le scarpe. 15 secondi al Drake. E quindi volevo pulire più velocemente possibile la lane. Ecco guardate già qui, ho semplicemente un oggetto e facendo il poke, quindi terza abilità. Prima abilità le ho levato già quasi metà vita. Vado verso il Drake e mi preparo anche a pulire la corsia perché tanto non è ancora stato iniziato il Drake. Qui per fortuna arriva Malphite, prendiamo Ari fuori posizione, niente di che di particolare. E ci dirigiamo verso il Drake. Qui provo a usare la Suprema, la prendo, quindi vedete volo in, tiro tutte le mie spell. E Lulu è costretta subito ad oltare Jinx. E Jinx è costretta a flashare, io continuo a dargli fastidio, faccio... Qui non avevo vision, è l'unico motivo perché non sono entrato in quel cespuglio. Torno indietro, me ne vado safe. Meglio non rischiare nelle prime fasi di gioco, specialmente se non avete abbastanza danno. E ci dirigiamo verso il messaggero. Che ancora non era stato iniziato da nessuno. Quindi lo andiamo a prendere. È un po' rischioso fare la colla del messaggero subito dopo il Drake perché loro possono a volte regalare e tornare con gli item. Quindi bisogna stare un po' attenti. Però la bot non ha seguito, quindi saremo comunque in 3 contro 3. Io ho abbastanza vita e qui c'è Ari che però ha la Suprema. La va a usare, riesce a prendermi. Per fortuna Malphite mi aiuta mettendosi nel mezzo così che Ari non venga completamente in al 100%. Seppur con lo scudo ricordatevi che sopravvivete più del previsto. Qua la baito perché lei viene in pensando di potermi uccidere. Scudo mi aiuta, Fear mi aiuta e metto l'ignite. Andiamo mid col messaggero. Dobbiamo stare attenti a set. Vedete? Eccolo qui che arriva da dietro. Lo arriva da dietro, quindi noi portiamo la torre abbastanza bassa da poter prendere l'uccisione. E mi vado a riposizionare qui per regalare. Vado a regalare. Al 100%. Torno verso la mid. Ho comprato la bacchettona perché voglio andare di Rabadon secondo item che fa dei danni assurdi. Perché tanto l'ho già giocata 4-5 game addirittura prima, soltanto prima di questo game qua. E poi la giocherò ancora tantissimo oggi in live. Stasera dovrebbe essere live se siete di giovedì. Altrimenti se siete di venerdì sarà di pomeriggio. E ci sta il telegram giù in descrizione. Quindi se siete curiosi su giveaway, live, regali vari, video YouTube, qualsiasi cosa. Entrate sul telegram, quello informativo, nessuno spam, ma ci sono solo io che scrivo. Qui tento di prendere la superma... Cioè guardate di quanto l'ho missata. Perché non ho guardato mirando così, ma ho guardato dalla minimappa. Ce l'ho detto, vabbè adesso la prendo. Purtroppo non l'ho presa. Vado a prendere lo scatto. Farmo. Vabbè, easy clap. Qui andiamo un po' a velocizzare. Tanto non succede niente di particolare. Va di mid perché avevamo visto Ari rengare la ult, ma io non ci riuscirò ad arrivare. Quindi mi sa che se la uccide da solo. Va a tower da evare. Ari qui poteva sopravvivere, continuando a correre. Prova a rientrare, sbaglia. Io continuo a cercare il poke e vedo che arriva Trash. Dico, vai, vai, fightiamo Trash, ti prego. Fa il grab su Lulu, bellissimo. Fear, tantissimo danno. Lulu muore prima di potersi ultare. Flash dall'altro lato per non farmi prendere da Kha'Zix, quindi mi riposiziono. Cerco altro danno. Caitlyn riesce a prendere l'uccisione ed è già inarrestabile. Quindi Caitlyn sta andando benissimo. E continuo. Qua sbaglio la prima abilità. Ecco, qua sono un pedale. Guarda, guarda, lo faccio dare anche a rallentatore. E ho mancato la Suprema. Lui fa il giro sbagliato. Viene grabbato, preso dal Fear, da tutto quanto. E quindi lo uccidiamo. Oh, qui mi sa che continuiamo. Siamo super tossici, sì. Continuiamo. Vediamo se prende Jinx. Io mi faccio lanciare la lanterna. Torno indietro. Fear. Purtroppo Lulu usa la Suprema. Perché non l'abbiamo vista arrivare. Quindi sto rischiando. Ma intanto vedete come me la Kito? Cioè me ne sto qui. Gli tiro un po' di spell. Mi riavvicino. Gli tiro un po' di spell. Mi avvicino e cerco di baitare. Lulu qua capisce che la situazione è pericolosa. Infatti flash out. Sta arrivando Rengar. Quindi decido di riavvicinarmi. Perché possiamo prendere questa uccisione. One shot ovviamente Jinx. Mi avvicino per prendere Lulu. La vado a prendere con la seconda abilità. E mi allontano. Kha'Zix purtroppo qui mi uccide facilmente. In quanto anche Rengar era molto basso. Rinasco ovviamente. Ho concluso il copricapo di Rabadon. Vado a prendere gli stivali della Kumo di Ionia. Potete fare anche quelle della Magic Resist. Se lo ritenete necessario. Ma mi piace avere quelli del cooldown. Per poter spammare il più possibile. Qui mi stavo andando a prendere il blu. Rengar mi scamma. Perché mi prende il blu. E mi sa che laggava. E spero. Vado a prendere l'Herald insieme alla mia squadra. Molto semplice. Con abbastanza easy. Drake che sta spawnando. Quindi andiamo verso Drake. Ruotiamo tutti contemporaneamente. Mettiamo pressione in mid. Pucciando i minion. E prendendo quindi visione. Vediamo qui che ci sono Trash e Rengar. Che vogliono fare l'agguato. Gli vado a prendere le cure. Mi preparo insieme a loro. Ecco guardate qua. Suprema lanciata in. Volo. Fear. Flash out il cuoricino di Ari. Mi riposiziono stando attento. Ritorno verso di Ari. Perché so che non ha più il cuoricino. Doggio la prima abilità di Ari. Doggio l'abilità di Jinx. Mi riposiziono in mezzo alla mia squadra. Che mi dà supporto. Oddio che cacchio. Ok. Rieccomi qui. Perché ho tiltato male. Che mi è andata indietro la registrazione. Quindi riescono ad ingaggiare. Mi metto in mezzo. In mezzo appunto alla mia squadra. Riesco a prendere la kill su Lulu con l'Ignite. E mi nascondo dietro Trash. Tiro la prima abilità. Che vedete va a firare tre persone. Mi avvicino per prendere altre uccisioni. Mi scudo mentre sto towerdivando su Kha'Zix. Eccoci qui. Cerco di fare altro danno. Guardate quanto danno ho fatto a Jinx. Lasciandola uno di vita. Altrimenti quella era un'altra uccisione per me. C'è la prima abilità. Guardate. Dei danni osceni. Quindi continuo a cercare di fare qui delle kill megatossi. Che mi riesco a scudare prima del cuore. Per fortuna. E riusciamo quindi a prendere l'uccisione su setta. Comunque quello che è successo poco fa. Mi è andato a massima velocità. Mi è assaltato il fight. Perché non abbiamo lo spectate che si può mandare indietro. Vado a prendere la sfera dell'oblio. Quindi anti-eal. Perché? Perché se andiamo a vedere la squadra avversaria. Hanno Kha'Zix che si cura. Ari che si cura. E in generale Jinx poi potrebbe curarsi come add carry più avanti. Quindi non è male. E lo metto lì da parte l'anti-eal. Tanto me ne torno per cercare di farmare. Ho il double buff. Sono vediamo 7-2. Sono 7-2. Qui c'è Kha'Zix che mi vuole ingaggiare. Ma ricordatevi la passiva molto comoda contro Kha'Zix se ti vuole ingaggiare. E c'è anche Ari. Solo che Ari committare senza vision ovviamente è pericoloso. Quindi non ci andiamo. Tanto Kha'Zix è lontano. 7 è in top. Situazione abbastanza tranquilla. Ci avviciniamo. Io volevo ingaggiare perché ero proprio assetato di potere. Guardate che danno. Boom volo in. Ed è shottata praticamente. Shottata Lulu. E manco la suprema su Jinx. Sì ci sarei andato là dentro come un pazzo. Infatti vedrete una chicca interessante. Qui vedo che arriva 7 da dietro. Lo vado a colpire. Fiar qui insomma in arrivo. A breve vedete la barretta sotto la mia vita. Tanto faccio la Q su due persone. E sta tornando il Fiar. Riesco a firare Kha'Zix. Colpisco 7 dietro di lui. Perché ricordiamo che la prima abilità si allunga. Vado a fare qui. Sono posizionato in maniera... Ok. Nel senso che volevo andare un po' sotto la torretta. Ma ho veramente poca vita. Se mi prende Ari con un cuore sono fregato. Non riusciamo a sfruttare la ulti di Rengar adesso. Loro vanno in base. Tornano indietro. E noi dobbiamo beccare qui. O meglio dovremmo beccare ma sta arrivando Ari. Vedo che Malfite è lì. Dico eh Kha' la voglia di ingaggiare. Quindi mi metto pronto. Gli dico vorrei beccare. Per favore prendo il blu. Ok qui prendo il blu. Prendo il blu e regallo. Sì. No. Perché è vero. Perché arriva la minion wave. La dico va bene. Mi voglio prendere la minion wave prima di regallare. Dico ah mi sa che Kha' Six mi vuole rompere le palle mentre regallo. Mi salta in faccia. E ovviamente poi viene firato. Perché cioè non si sa che problemi ha. Utilizzo la suprema. Gli volo addosso. E facciamo quindi questa uccisione. Io ho di nuovo la suprema. Ma sono un tossico. Guardate. Perché Malfite ingaggia. Io sono qui dietro e dico beh. Ci voglio andare. C'è solo un piccolo problema. Non ho ancora la passiva. Vedete mi manca metà per la passiva. Quindi volo in e convinto. Ah adesso li firo. Mi scudo e li firo. Invece mi mancava ancora un pochino la passiva. Quindi qua praticamente l'ho intata. Volo in e loro continuano il fight. E va abbastanza decentemente. Perché bene o male Caitlyn era fiddata. Rinasco. Oh sto andando avantissimo con la build. Infatti ho chiuso la sfera dell'infinito. E con questa i danni iniziano a farsi sentire. Loro stanno fiddando. Provo a prendere la suprema. Ma non capisco che stavano inseguendo verso sinistra. Quindi la manco. Mi avvicino lo stesso al team fight. C'è Caitlyn molto fiddata. Quindi provo a usarla anche come mezza esca. Perché magari riescono ad ingaggiare su di lei. Non vado sotto torre. Perché è fin troppo pericoloso. E mi avvicino a cercare del poke da qui. Continuo a colpire dalla distanza. Ari molto bassa. Qua mi sa che quella ulti era per Ari. Credo. E però non stanno esagerando. Loro stanno facendo bene. Riesco a firare lui. Che mi riesce a grabbare. Quindi rischio un pochetto finendo sotto torre. Ma rimane molto basso. Purtroppo l'ignite non lo uccide. Perché Lulu lo salva. Mi rimetto a recallare. Cazix di nuovo non ci sta. Vuole essere firato una seconda volta. Saltandomi in faccia. Riesce però a salvarsi. Grazie a Lulu anche lui. Qui vediamo se continuano il chase. Io utilizzo la suprema. Cioè scusate. Sto aspettando la suprema. Che ce l'ho quasi pronta. Vedete? Però volevo recallare. Perché ho detto siamo bassi. Vi prego. Cioè inizialmente volevo recallare. Poi vedo che per un attimo loro pronti ho detto. Ecca la mo vogliono fightà. Quindi no per favore. Fightano. E io sono in base. Purtroppo. Quindi me ne vado verso di lì. Cerco di avvicinarmi. Voglio avvicinarmi. Ho la suprema pronta. Che mi fa fare comunque un buon viaggio. Qui mi sa che la riesco ad utilizzare. Esattamente. Vedete come sono lontani. La uso. Colpisco Kha'Zix. Guardate qui. Volo in. Seconda abilità. Esplode. Flash out dalla torretta. Colpisco di nuovo la suprema su di lei. Volo in. Doppia uccisione. Purtroppo qui prendo abbastanza danno. Vado in stasi per evitare il colpo di torre. Quindi doppia uccisione. E però sono greedy. Perché voglio continuare. Casto nuovamente la suprema. Colpisco set. Volo in. Seconda abilità. Prima abilità. E purtroppo ci muoio di pochissimo. Perché altrimenti questa sarebbe potuta essere una pentakill. Nasco. Sono 11-4. Con la build quasi completata. Nel senso che voglio andare per la void staff. Vado a prendermi il blue buff. E volevo cercare un bel team fight grosso. Da qui in poi inizio a limitestare molto. Cioè a buttarmi in delle situazioni estremamente pericolose. Solo per capire quanto può dare questo campione. In modo da potervi far vedere quanto potete usare con questo campione. Sicuramente lo farò molto anche in questi giorni. Quindi mi avvicino per cercare di castare la suprema. La colpisco credo. Sì. Volo in. Provo. Guardate il danno. Quello era un set. Quello era un set. Shottato. Guardate. Ecco questo è stato un po' meme. Perché non l'ho uccisa di pochissimo. Però non ho visto che era così tanto lontana. Quindi sono volato. Del Nexus. E sono morto. Perito. Qui mentre sono morto nel frattempo Caitlyn fa quadra kill. E praticamente con quella quadra kill mi sta io incando l'MVP. Io sono 12-5-9. Con la build finalmente quasi full. Mi manca solamente il morello. Mentre Caitlyn è 13-2. Comunque stiamo andando molto bene. Ci avviciniamo verso il baron per fare bait. Volo in e boom. Cioè regà. Regà che danni che fa sto champion è una cosa assurda. Considerando anche i così bassi cooldown. Qui prendo la suprema. Volo di nuovo in. Shotto Jinx. Purtroppo vengo preso sotto torre. E muoio di nuovo. Stessa cosa che ho detto prima. Limit testo la suprema per vedere che cosa succede. Quindi purtroppo ci muoio come un fagiano. E sono dunque 14-6. Rinasco. Purtroppo non sono full build. Mi mancava pochissimo per il morello. Vado a fare il blue buff. Dicendo alla mia squadra di aspettare un secondo. Ma non aspettano. E decidono di ingaggiare. Quindi fanno delle kill. Lascio prendo il blue per avvicinarmi. Intanto hanno chiuso il maggiore. I miei compagni. Questo vuol dire che è super facile fare le uccisioni. E infatti rimangono solamente 7 Jinx. Considerando che 7 neanche stava fightando. Andiamo qui. Che il Nexus sta per essere preso. E volevo fare l'ultima uccisione su Jinx. Solo per farvi vedere quanti danni fa sto campione. Quindi mi avvicino. La suprema la manco. Vedete questo. Tra l'altro bellissima questa skin. Ringrazio Pinguino. Che è la di carry di questo game. Che mi ha regalato questa skin. E vedete. Ecco qui voglio flashare. E shottare lei prima che il Nexus. Ha 105 di vita. Flasho in. Sbaglio la seconda abilità. Quindi faccio solo la prima. E un attacco base. E le ho fatto 1044 di damage. Così. In un attimo. C'è una roba assurda con il danno di questo campione. Eccoci qui con le statistiche. Vediamo 1569. Purtroppo non ho comprato il morello prima della fine. L'NVP. Io ho incato. Da colui che mi ha regalato la skin. Quindi. Lo si perdona. Andiamo a vedere i danni. 47.000 danni. E questo game ne ho fatti meno di altri. Ma ecco qui un game che invece ho fatto anche prima. Dove ho fatto appunto MVP. E ho fatto 56.000 danni. 56.000 danni in 19 minuti. Cioè così. E forse ce n'è stato anche un altro. Ok no. L'altro non ce l'ho disponibile. Perché era su un altro account. Ed era 60.000-70.000 danni anche quello in una ventina di minuti. Quindi danni veramente alti. Un campione super super forte. E ci siamo. Come sempre vi ricordo di entrare nel Telegram. Super importante per i giveaway. Per le live. Per i video YouTube. Per tutto quanto. Ovviamente. Altrimenti c'è la campanella di YouTube. Vi auguro una buona serata. Delle buone ranked. E ci vediamo al prossimo video.